MAKERFARE 2024, edizione 12, sono qui con un gruppo dell'Istituto Tecnico-Tecnologico Enrico Fermi. Con me abbiamo Gabriele, Gianluca e Federico. Gabriele, cosa riguarda questa macchina di visione? Questa è una macchina robotica, controllata da un Arduino Uno H3, e questa macchina smart camera, e questa macchina è capabile di riconoscere il suo proprietario, che è Gianluca. Ok, quindi quando Gianluca si siede, la macchina dice hallo? Ciao. E come questo AGV? È una macchina smart, che può essere controllata da un assistente vocale, e può riconoscere i segnali. Computer, vai avanti. Quindi, computer, vai avanti. Quale Arduino ti usate là? Un Arduino Uno H3, per controllare la camera, e un M3 player. E un Arduino Mega, per controllare i motori, e tutti i sensori. Questo è un smartphone smart, che può essere controllata da un'applicazione, o manualmente. C'è alcuni sensori, come questo senso di distanza, con un sonno ultrasonic, che possono giocare un allarme. Abbiamo anche un fan, e un luce, controllati da un sensor. Sono un pannello solare, che può seguire il sole, con molti sensori. e possono realizzare la tutta farm. Buon lavoro, ragazzi! Buon lavoro, ragazzi! Buon lavoro, ragazzi! Buon lavoro, ragazzi! Grazie a tutti.